salve sono qui per la prima volta questo è un video di introduzione che naturalmente semplicemente renderà benvenuti a tutti voi che vede questo canale mio canale personale che ho voluto creare soprattutto per prendere il mio consulenza gratuitamente a voi cittadini sia stranieri sia italiani ma anche questo canale userò anche soprattutto per parlare di me nell'attività che faccio e soprattutto del mio punto di vista su tantissimi argomenti argomenti come come immigrazione come ho detto prima la giustizia e l'attualità locale nazionale locale intende soprattutto nella città di rieti la città dove io vivo da oltre vent'anni e quindi questo canale anche un strumento fondamentale fondamentale dico perché soprattutto per potrei rendere diciamo raccontare cioè come come stanno le cose veramente perché si fa prima a parlare l'immigrazione delle persone alle spalle delle persone e senza veramente chiedere o cercare via eccetera comunque cercherò di risolvere tutto ciò è quello che so e tutto ciò è quello che vengo a sapere anche con questo canale affronterò per tanti stranieri e tanti cittadini italiani soprattutto per i cittadini quello che io considero cittadini perché siamo tutti cittadini del mondo e dare e mettere in luce quanto possibile ho pieni interessi che rendere chiari cioè quello che è l'immigrazione oggi cioè quello che è la vita la vita che io considero duro molto duro e lo sappiamo noi soprattutto negli stranieri però credo che è un momento di una voce una voce come la mia forse anche una voce che darà voce che tanti altri non ha la possibilità di comunicare attraverso i trattori come questo qua di youtube per parlare naturalmente e tranquillamente perché viviamo un paese e io ho visto in questi anni è molto democratico anche ci sono episodi che mette in dubbio anche questo però comunque sia è molto molto più democratico da parte dove noi africani o maggior parte di stranieri che vengono dall'asia o da sud america provengono quindi e l'appuntamento è per la prossima il prossimo video e tenete in considerazione che ho anche un blog e indirizzato così eastwoodrieti.com e tranquillamente lo trovate in basso di questo canale potrete trovare un link e direttamente per visitare per leggere per anche per lasciare i vostri commenti anche per criticare per suggerire nuovi argomenti da discutere di cui posso affrontare ma sicuramente poterò a tutti voi a casa vostra dentro vostro pc cioè quello che io so è quello che voi dovete sapere su tutto immigrazione politica giustizia è tutto ciò che riguarda noi il nostro futuro e non sta convivenza grazie e poi nella prossima prossimo video ne approfondiremo tanto 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 di quelle delle cose